del monte spaghetti sauce eccolo o vai vai del monte spaghetti sauce questo ragazzuolo sta preparando lo spaghettino per capodanno ragazzi questa è la ricetta perfetta per il veglione allora gli ha preso il macinato da il macellaro quello buono l'ho ordinato 50 e 50 mezza mucca mezzo maiale questa cinta aglianese molto più buona della cinta senese dove sta cucinando che gli è un cerchio nell'alfa sud e ho visto poi pangrattato non abbiamo visto fare comunque se ti vedano se viedano il ravanello per a bello questo è il buono sto ravanello perché gli dai pizzicante simil ragù il ravanello è proprio la sua morte o vai una bella di messina e spaghetti filippino storio del monte spaghetti sauce in pratica è che la pomarola sottovoto che gli è il fustino di d'asce vai le forbici di gatto o vada la che sbrodo la sbrodo la sbrodo la vera che gli ecco di sta madonna che colorino ambra o spezia o vedi la spumarola la falla schiuma la falla schiuma la deve falla schiuma se ti vede a navacciolo dice mettere un poco di pomodoro eh canna ma ciò vai e poi si lascia rocce che c'è ma dice entra c'è gente esce vada e bellezza il vero ragù alla bolognese e forse lui ce ne stavano guardi anche sì che mi piacere si è forte forte allora che ti ha messo il latte che ti ha questa sbrodata che ti ha aiutato a fare il rinforzino quel dito fa la scarpetta pinoncino di pane e rizza pelu per piacere si che ti per piacere sto doppiando allora ricominciamo basta signor di fiva si che ti è una specie di pinzimonio ai ragù ragù ai pinzimonio insomma non si sai che dire ecco io la ricetta per caponanno ve lo dà poi un vu dite che non ve lo dà mi portate per bocca perché ve lo dà poi fai che vi pare com'è di sale ce lo senti va bene che spettacolo ragazzi che spettacolarità passa anche dalla sua pagina originale e poi lasciate un like alla nuova pagina di bellini buona ugo